165 chilometri di corsa in un tracciato che presenta un volto diverso da quello storico voluto dal suo inventore Corrado Livi, il Leone che nel ciclismo fu attore principale ai tempi della Dormedario Fibok, che ha sempre voluto che questa corsa fosse al centro dell'attenzione degli sportivi in estate. Fino a poco prima della sua morte il tracciato rispecchiava la Libia, il passaggio dalla Valtiberina fino a Santa Fiora, il ritorno dalle ville verso Arezzo, la Foce e la Picchiata verso Rigutino. Una corsa data ai passisti veloci e spesso era un ristretto drappello di atleti che si contendeva la volata. Poi con l'avvento di Piero Rosini che nel ciclismo ha un ruolo con la sua futura team, si è dato più spazio alla Valditiana con il passaggio da Cortona e le frequenti soluzioni proprio in quel di Rigutinelli dove i corridori saranno chiamati a dare il massimo. In passato in questa corsa ha fatto follia un certo Marco Pantani che se avesse avuto una soluzione come quella di quest'anno non avrebbe avuto problemi a vincere ma come dice un vecchio adagio ogni corsa ha una sua storia e quella di domenica sarà pronta a fornire il massimo dello spettacolo.